a creare un ambiente più consono alla comunicazione. Di nuovo buonasera a tutti quanti, ci ritroviamo al secondo, anzitutto do il benvenuto al nostro ospite, l'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata che non ha assolutamente bisogno di lezioni, di presentazioni, ci troviamo nella seconda lezione che parla della dicotomia appunto oriente-occidente che proprio in queste settimane purtroppo ci pone di fronte alla drammaticità di questo scontro che è diventato anche uno scontro amato. Vi chiedo la cortesia di silenziare per favore i vostri microfoni altrimenti risulta un po' difficile comunicare. Io proverò a farlo da qua e do subito la parola all'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata per la sua lezione. Prego ambasciatore. Grazie, finite Mario. Grazie a tutti voi che avete aderito a questa occasione d'incontro. Audio, riattivato l'audio. Perfetto, ok. Nel disattivare gli audio il nostro coordinatore aveva pensato bene di disattivare il mio, perché avevo già parlato abbastanza, quindi no, adesso sto scherzando. Il tema, quando l'abbiamo discusso col presidente di Fare Futuro, presidente Alcopazir Adolfo Urso, sembrava essere un tema di continuità con un ragionamento che forse alcuni di voi ricordano un anno fa o quasi, avevamo fatto sul concetto di atlantismo. Cioè il concetto di atlantismo che avevamo così cercato di sintetizzare in quello che è il punto di riferimento fondamentale, perché il concetto di atlantismo naturalmente si poggia sulla concezione fatta propria dalla dichiarazione atlantica del 41, dal trattato di Washington del 49, dai trattati europei sino al trattato di Lisbona ed oltre, ai trattati di Roma, atlantismo nel senso che racchiude i principi fondanti anche della nostra Costituzione, si è dato le Costituzioni democratiche, di ispirazione, democrazia liberale, quindi fondate sulla tripartizione di poteri, sullo Stato di diritto, sul fatto che nessuno deve essere superiore alla legge, ma che lo Stato di diritto include e incardina in modo estremamente chiaro i principi del rispetto delle libertà fondamentali dell'individuo, dei diritti economici e sociali, dei diritti umani della dignità della persona, il divieto della tortura, insomma tutta una serie di considerazioni che sono proprie al mondo definito occidentale. Avevamo fatto questi ragionamenti mettendo anche in luce quello che è l'insegnamento di alcune personalità del mondo della nostra cultura, alle quali il mondo della destra, del centro-destra, il mondo liberale anche del nostro Paese, che non è soltanto del centro-destra, evidentemente esistono delle personalità di formazione liberale che sono liberali in senso stretto come partito liberale. Antonio Martino, il compianto Antonio Martino che è mancato pochissimo tempo fa, un grande maestro sul piano dell'economia, soprattutto del pensiero politico, ma sono proprie anche a un mondo della sinistra che ha costruito anche, ha contribuito a costruire in modo significativo, ma non in modo esclusivo, per esempio l'Unione Europea e i trattati europei. Dal manifesto di Ventotene, ultraconclamato, con un certo senso un po' monopolistico da parte di un mondo intellettuale della sinistra che ritiene che l'Europa debba essere socialista per essere veramente Europa, un'idea alla quale invece persone che hanno la mia età e che ricordano bene gli insegnamenti di una grande personalità della politica italiana, Giorgio Almirante, quando affermava, profondo europeista, ma affermava dall'altra parte dello scocchiere politico, l'Europa o è destra o non è, e la destra o è Europa o non è. Ecco questo, tanto per lanciare alcuni segnali di quello che racchiude questo ampio concetto di democrazia liberale ergo di comunità aeroatlantica e di atlantico. Abbiamo, fare futuro, sono stati anche dei convegni, delle cose importanti che sono state studiate del pensiero di Roger Scruton, anche lui perso poco tempo fa, ma autore nel 2017, uno dei, è veramente l'anima di un processo che ha portato al manifesto dei conservatori e che ha espresso in modo così semplice, così chiaro, l'idea conservatrice. Attenzione, non confondiamo, si identificano conservatorismo liberale e idea liberale nell'organizzazione dello Stato, ma non sono esattamente la stessa cosa perché anche il liberalismo ha delle declinazioni, non dico infinite, ma molteplici, per esempio nell'attuazione delle teorie economiche, nelle concezioni della finanza, nel conservatorismo che poi diventa repubblicano e diventa umanitario e particolarmente aperto verso il welfare, molto di più di quanto comunemente si creda. Quindi è tutto un mondo, però Roger Scruton l'aveva descritto così bene e l'avevamo ricordato la volta scorsa, quando diceva che il Stato di diritto, la democrazia parlamentare, solidarietà, spirito pubblico che si esprime attraverso piccoli plotoni di volontari sono le cifre del pensiero conservatore e liberale contemporaneo. E diceva ancora, riguarda essenzialmente la consapevolezza che a tutti noi collettivamente è stato trasmesso un patrimonio positivo di cose buone per le quali dobbiamo lottare. Ci troviamo eredi della civiltà occidentale, siamo ben consapevoli delle cose buone che desideriamo, la possibilità di vivere le nostre vite come vogliamo, la certezza di leggi imparziali attraverso le quali le ingiustizie siano riparate. Ecco, questo l'avevamo ricordato in modo un po' più diffuso nelle considerazioni che avevamo svolto parlando di atlantico. E d'altra parte avevamo detto, ecco, di fronte a questo concetto di atlantismo, di comunità euro-atlantica, esiste un crescente alimentare delle visioni contrapposte di tipo euro-asiatico o asiatico, di cui sono artefici e in questi ultimi anni e ancora più mesi abbiamo visto come ci sia stato un grande impegno di presentazione, anche un po' di riscrittura della storia, di riscrittura della storia nettamente arbitraria in alcuni casi. Si pensi che l'impero di mezzo nega oramai Xi Jinping, l'impero comunista cinese, nega qualsiasi, anche il riconoscimento dell'esistenza di Gengis Khan, per esempio, del dominio tartaro-mongolo in alcune fasi delle numerosissime dinastie, 30 dinastie dell'impero di mezzo. Ma comunque in questa operazione di riscrittura della storia e di re-ideologizzazione delle relazioni internazionali, perché questo è avvenuto negli ultimi 5-6 anni, forse 15, ma in modo molto più aggressivo negli ultimi 5-6 anni, avevamo ricordato come in Russia il Cremlino ha fatto ormai una campagna strutturata con dei pronominanti degli storici e degli ideologi ufficiali per propagandare i valori dell'Eurasia. Ecco i valori dell'Eurasia, ricordiamo tutti, Alexander Lukin o Dugin, che da anni si battono per affermare che se i paesi dell'Europa, lo cito, sono uniti per sostenere i valori della democrazia, dei diritti umani e cooperazione economica, l'Unione Euroasiatica, dice Lukin, deve difendere i propri ideali allo stesso modo e si diffondeva in diverse pubblicazioni sul fatto che gli eurosiatisti hanno associato il popolo russo al popolo turanico delle steppe dell'Asia centrale, legato all'antica Persia, che ha nel suo DNA un modello culturale basato essenzialmente sull'autoritarismo. E in questo modello cristianesimo, ortodosso, islam e buddismo hanno un riconoscimento molto importante perché è un modello non confessionale, quello dell'autoritarismo euroasiatico, forse non nettamente confessionale, ma sicuramente non è lo Stato laico che è proprio al modello di democrazia e di Stato di diritto occidentale. Ecco, questi erano un po' i riferimenti culturali a grandi linee e in eccessiva sintesi di cui avevamo parlato. Ed eravamo convinti, commentavamo con Mario un secondo prima di aprire i microfoni, eravamo un po' tutti convinti che questo potesse essere un piano d'azione estremamente importante perché la cultura è la base dell'identità di Stati e popoli che devono relazionarsi fra di loro sul piano delle relazioni internazionali, che devono decidere le loro alleanze, che devono contribuire alla crescita. Per esempio la globalizzazione è stato un fenomeno, la grande crescita che è venuta dalla globalizzazione, che poi ha portato i guai che sappiamo enormi, ma era legata a un convincimento, a un consenso che sembrava emergere nei primissimi anni 2000, diciamo proprio dall'ingresso della Cina nel WTO, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, un consenso sul fatto che la libertà economica, intesa come libertà degli scambi, come base, ma anche come libertà di impresa, come libertà di finanza, libertà di investimenti, libertà di giudizi, di capacità di diventare imprenditori o di svolgere una professione piuttosto che un'altra, di avere anche dei riconoscimenti economici basati sul merito. Cioè questo tipo di globalizzazione dell'economia era basato su un apparente consenso del gigante cinese in crescita della Russia, che ne beneficiava anche se è un'economia molto più piccola, sappiamo che oggi è meno di un decimo di quella cinese, e di una leadership che pur appartenendo a dei mondi diversi, nel mondo americano, europeo, rispetto al mondo russo e cinese, aveva la volontà comune, perché gli obiettivi comuni, di favorire la crescita dei loro popoli, l'uscita dalla disperata povertà, dalla più nera povertitura, dalle carestie, dalla fame che aveva ucciso decimilioni di cinesi sotto Mao e milioni, milioni, ma forse anche in Ucraina sotto l'Unione Sovietica, ma anche nella stessa Russia durante il potere di Stalin, e che quindi questo valesse come elemento di aggregazione. Clinton, ho detto una frase celebre, sono quelle frasi celebre che poi purtroppo macchiano nei libri di storia il senso di leadership, anche di presidenti che peraltro hanno avuto una capacità, al di là delle difficoltà sul piano interno e anche personale, ma Clinton è stato un presidente che ha contato molto nella storia americana e nella liberalizzazione e nell'aumento degli scambi. Clinton, al momento dell'ingresso della Cina all'Organizzazione Mondiale del Commercio, dichiara, ecco adesso finalmente la libertà dei commerci diventerà libertà delle persone, diventerà riconoscimento dei diritti umani, diventerà riconoscimento dell'estate di diritto. Da lì è incominciato esattamente il percorso contrario, mentre per il percorso contrario guardate bene che abbiamo fatto che l'Europa in primis e la stessa America e molti altri paesi dell'Indo-Pacifico hanno fatto finta di credere che fosse comunque un percorso che alla fine avrebbe creato una classe media in Cina, avrebbe creato un processo costituzionale di cui si parlava fino all'arrivo al potere di Xi Jinping nel 2012. Ancora con Uji Tao c'era tutto un gruppo di costituzionalisti all'Assemblea del Partito Comunista Cinese e nel mondo anche all'interno del sistema cinese che poi effettivamente è stato completamente spazzato via. Ecco allora questa contrapposizione ideologica in realtà che secondo probabilmente secondo convinto la visione cinese, una visione certamente conflittuale di volontà di dominio sulla leva economica, ma in Cina la leva economica e la leva familiare sono strettamente unite anche se non c'è una grande esperienza di utilizzo delle forze armate se non per monopolizzare il mar della Cina meridionale centrale ed appropriarsi di immense fette dell'Oceano Pacifico a danno dei paesi vicini. Ma la Cina, il dominio cinese dichiaratamente e anche in quello che abbiamo visto sotto Xi Jinping è una volontà di dominio basata sulla crescita economica e sul superamento tecnologico e scientifico dell'Occidente o quantomeno sulla competizione in alcuni settori come intelligenza artificiale, con computing, spazio, telecomunicazioni e questi ordini di ragionamento. E sembrava quasi chiaro che la volontà cinese di ricostruirsi una narrativa storica, di rivendicare una revisione del sistema giuridico internazionale, dei regolamenti, dei principi che regolano l'ordine delle relazioni fra stati fosse mirata soprattutto a conseguire dei vantaggi economici con un'espressione assicurata basata sulle vie della seta, sulle vie della seta in tutti i campi, non soltanto quelle dei trasporti, ma anche vie della seta di influenza finanziaria e di presenza militare, ma che fosse questo impianto ideologico che la Cina continuava ad asserire della priorità di un sistema comunista che ha sempre rivendicato con forte aggancio alla legacy di Mao, fosse in realtà qualcosa che poteva avere dei risultati senza ricorsi massicci alla forza. E lo stesso pensavamo che avvenisse per la Russia, anche la Russia interessata a far crescere la propria economia, l'economia russa è andata male con la caduta dei prezzi del petrolio all'epoca, caduta che non è stata determinata da... Ci siamo? Ok. Credo che ci sia un problema con... Ah, ecco l'ambasciatore. Ci siamo. Mi sentite? Ecco, ora la risentiamo. Sì, sì, ora la risentiamo. Perfetto. Ecco, dicevo, la Russia si pensava, non eravamo più impressionati di tanto da questa assertività culturale, chiamiamola pure ideologica, di una visione del mondo basata sui principi dell'autoritarismo turanico, dell'idea di Rus, della storia degli Isar, perché si pensava, beh, sono degli elementi che sono stati chiamati forse in modo diminutivo soft power, ma non sono delle cose che devono poi tradursi in confronti bellici, guerreggiati. E abbiamo tutti subito la doccia fredda, gelata, di quello che è venuto il 24 febbraio, nonostante nonostante il 24 febbraio è stata la parte finale di un processo di spiegamento di forze sui confini dell'Ucraina, che è durato probabilmente un anno, perché se voi ricordate le operazioni ZAPAD, che hanno mobilitato nel nord della Russia in collegamento anche già con la Bielorussia e con una partecipazione sia pure simbolica di forze cinesi, ecco già le operazioni ZAPAD avevano più di 100.000 uomini spiegati in un territorio che non era vicinissimo all'Ucraina, ma che faceva già pensare che si facessero delle esercitazioni con una volontà di attacco e di occupazione massiccia. Ecco, il collegamento, il passaggio fra la dimensione propagandistica, culturale, di riscrittura della storia, di alternativa di sistema di governo fra Occidente e Oriente, veniva molto sottovalutato nella possibilità che invece fosse una prima tappa di un pensiero putiniano mirato alla guerra in Europa. Nessuna persona di buon senso poteva spingersi a tanto, non c'erano neanche i motivi, anche se è vero che Putin ha avuto un percorso lineare e sempre in salita nelle sue pretese di confronto con i paesi europei e in particolare con gli Stati Uniti. Perché dicono le sue pretese di confronto? Perché dal 2008, dal vertice dell'aprile 2008, vertice atlantico di Bucharest, Putin ha spazzato via tutte le idee del decennio precedente, cioè della fine degli anni 90, di cui lui stesso era stato artefice. Era stato artefice, però guardiamo bene, in quegli anni 98-99, quando lui ha preso il potere, si è liberato di Medvedev, poi si è alternato con Medvedev e poi ha ripreso il potere lui. Ma in quella fase, dal 99-2000 sino al 2007-2008, tutta questa enfasi sulla alternativa di governo efficace quello autoritario e euroasiatico rispetto alle democrazie decadenti occidentali, tutta questa enfasi ideologica non era mai stata sventolata da Presidente Putin. Quindi non è perché non era mai emersa in modo, e non aveva alimentato queste correnti di pensiero e dei suoi divulgatori, dico i Luchin e Dugin, nomi che si assomigliano molto, ma alcuni, tanti altri che sono stati finanziati, sostenuti, blanditi dal creminino, per non dire gli anchorman russi televisivi che continuano a minacciare guerre nucleari contro l'Occidente, ma da anni. Ma fino al 2007-2008 c'era nel Presidente Putin, sembrava il convincimento, ma forse non è una persona di cui, nonostante qualcuno abbia detto, io guardo negli occhi, ho visto l'anima del Presidente o altre cose. Chiaramente è una persona teatrale di grandissime capacità di simulazione, non avrebbe fatto il mestiere sin da piccolo, sin da giovane, che ha fatto, poi facendo una carriera interna anche al KGB importante, perché era capo della rete nella Germania Est, se non sbaglio, poco sopra i 30 anni, quindi un uomo di grandi capacità, anche dal punto di vista dell'organizzazione di intelligence, grande dissimulatore, simulatore e manipolatore anche dell'opinione pubblica, come stiamo vedendo, e ha dimostrato. Ma in tutti quegli anni lui aveva fatto credere e si era espresso in modo anche scrivendo, partecipando a incontri formali. Ricordo uno per tutti, ma ce ne sono stati tanti, altri, tra l'altro anche con l'Italia, con il Presidente Berlusconi, con tanti uomini politici italiani. Nel 2002, pratica di mare, il Consiglio Nato-Russia, ma attenzione, il Consiglio Nato-Russia è venuto cinque anni dopo, 1997, quando Nato e Russia sottoscrivono un accordo internazionale per la creazione il NATO-Russia Council Act, un vero e proprio atto formale di rapporti cooperativi sullo stesso piano, in cui Russia e Nato collaborano per la sicurezza continentale. In questo principio, sicurezza cooperativa, ne abbiamo sentito parlare a Iosa con i colleghi russi per tantissimi anni, tutti gli anni 90, ma anche i primi 4-5 anni del 2000. Dopo il 1997 c'è un altro passaggio che incomincia ad esserci dei contatti con Robertson, segretario generale della Nato, in cui Putin c'è un incontro celebre, messo a verbale, cioè non sono quelle cose così dette fra una porta e l'altra, dico potrei la Nato non si espanderà, si espanderà, eccetera. Qui c'è un atto formale nel quale Putin chiede la missione alla Nato e di fronte al segretario generale Robertson che dice ma dovete seguire una procedura perché è un parere condiviso, ogni Stato membro deve potersi esprimere, poi Putin dice ma no, ma noi non siamo mica, siamo una superpotenza, quindi superpotenza nucleare, cioè non possiamo mica fare, metterci in coda insieme agli staterelli che sono entrati dopo il 1997 o cose del genere. Ma da lì in poi c'è poi pratica di mare, quindi voglio dire che sono 5 o 6 anni in cui la Russia nei confronti della Nato addirittura vuole entrare nel club o dà l'impressione di poterlo fare senza nessuna esitazione. È soltanto dopo che incomincia ad emergere questa, ho citato prima il vertice atlantico di Bucharest del 2008 al quale avevo avuto l'occasione di essere presente dal direttore politico, di essere coinvolto anche nel negoziato di un, io con un paio di altri colleghi della Farnesina, con i Russi e con gli altri paesi atlantici di un comunicato congiunto, come si fa sempre alla fine di queste occasioni, e invece il comunicato congiunto che era già definito, era già concordato con i colleghi russi, a un certo punto succede una specie di scenata all'apertura dei lavori di Putin, ospite ovviamente degli altri, si rivolge a Bush e incomincia a fare una tirata pazzesca sul fatto che la Nato era l'origine di tutti i mali del mondo, lo Stato imperialista, l'America e tutte queste cose. Il comunicato va a farsi friggere, come si dice in buoni termini, e si apre veramente quella fase nuova, che chiaramente bolliva già da tanto tempo, ma bolliva da 4-5 anni perché sino a quel punto lì la Russia non si sentiva sufficientemente forte militarmente, non politicamente, economicamente, ma militarmente. Tutto il gas, il mare di gas acquistato soprattutto dagli europei, grazie a quella dissennata politica mercantilista di Angela Merkel, che ha fino all'ultimo con la Russia e la Cina cercato di guardare soltanto i vantaggi delle case automobilistiche, di Wirecard, della finanza tedesca, di Deutsche Bank e di tutte queste altre cose, portandosene dietro in tutte le missioni commerciali nel mondo, dicendo che erano tutte aziende meravigliose, quando poi si scopre che avevano stabilito le case produttive di cidi automobili, che sono il 40% dell'esportazione da Germania e il 40% dell'esportazione europea in Cina, tanto per dirne una. E tutto quello che contava era l'esportazione tedesca, cioè continuare a diffumulare questo enorme surplus sulla bilancia commerciale tedesca nei confronti degli altri partner europei e nei confronti non surplus, nei confronti della Russia, perché appunto la Russia era fornitore monopolista della Germania attraverso i continui new stream che arrivavano, direttamente la cosa scellerata del nostro stream 2 che metteva le manette finali attraverso la politica dell'energia a qualsiasi capacità di esprimersi liberamente nei confronti della Russia, perché sennò quelli tagliano il gas, ma anche l'ossigeno dalla bocca e poi è finita lì, ma l'energia è un elemento fondamentale per la sicurezza di un paese, tale quale come la difesa, come le forze armate. Quindi la politica Merkeliana nei confronti di Russia e Cina è stata quella che ha creato il convincimento di questi due grandi paesi che l'Europa era una cosa sulla quale si poteva giocare come si voleva. Innanzitutto si poteva cercare di dividere gli europei, perché una volta divisi gli europei la massa critica, anche economica, una capacità di reagire economicamente a qualsiasi torto venisse fatto all'Unione Europea, svaniva. Ma poi i condizionamenti fatti dalla Cina, condizionamenti attraverso un controllo di mercati e anche di alta tecnologia, vediamo Huawei, ZTE, le telecamere Iki Vision, per i quali alcuni comuni italiani spendono milioni per comprarle, per farsi portare via addirittura tutti i dati personali, i riconoscimenti facciali, le localizzazioni di qualsiasi persona, giri in un quartiere dove ci sono le telecamere Iki Vision. E tutte queste cose noi le abbiamo senza nessuna protezione della nostra proprietà intellettuale, scarsissime protezioni della nostra proprietà intellettuale, dei nostri dati. Tutte queste cose sono state in gran parte perché gli europei hanno premesso in modo ossessivo gli affari avanti a qualsiasi altra considerazione. Affari, 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 affari. Vendiamo, vendiamo macchine, vendiamo finanza, vendiamo qualsiasi tipo di prodotto. E essendo la Cina dominante anche nell'esportazione verso la Russia e verso la Cina, ecco, il condizionamento che questi due paesi hanno potuto fare sull'economia e sulla volontà politica europea è stato molto... Abbiamo tagliato qua un anno e mezzo. Sì? Pronto? Sì? Ah, c'è sempre qua con qualche audio aperto, l'ho chiuso. Prego. Ok, grazie. Il punto, il re dell'azione è stato... ecco, le doccia fredda, ricevo, ci siamo dovuti purtroppo svegliare. No, dovevamo svegliarci molto prima perché nei confronti di Putin la sveglia era già suonata nel 2008 con l'invasione dell'Ossesia, con l'annessione della Crimea che è stato un atto gravissimo e l'Europa ha fatto finta di niente. Nel 2014, nel 2013, l'utilizzo di armi chimiche su bombardamenti di Aleppo e del Guta, 2013-2016, rapporti delle Nazioni Unite, non sono finiti in risoluzione del Consiglio di Sicurezza semplicemente per i poteri di veto della Russia e della Cina, il Consiglio di Sicurezza. Ma tutte queste cose, questi crimini, gravissimi crimini internazionali di Putin e di Xi Jinping, perché sono crimini internazionali, internare e far lavorare forzatamente senza dargli neanche un dollaro di paga, almeno due milioni di due gurne o che si neanche. Ecco, tutti questi crimini non hanno avuto nessuna risposta, neanche quando erano a danno dei nostri interessi di sicurezza. L'Europa, pianeta di Venere, è stato detto da un celebre analista britannico diverse volte, perché quando si parla di sicurezza si spaventano tutti. Vediamo in Italia, c'è voluta la guerra contro l'Europa, ecco questa è una definizione che vorrei uscisse da questa lezione, c'è voluta questa guerra contro l'Europa perché il governo tedesco facesse un'oretta straordinaria. governo tedesco con un ministro negli esteri, Annegrette Baerbock, verde, per tre anni presidente dei verdi tedeschi, pacifista come potere nella loro ideologia, i verdi, il cancelliere Scholz, tra l'altro ministro di Angela Merkel e gli altri componenti della coalizione. Ecco, la consapevolezza, che non è stata improvvisa, perché su Cina e Russia, da almeno 4-5 anni a Berlino, a livello di TNK, ma anche di lavori interni, di approfondimenti, di partiti politici, al Bundestag, questo senso di minaccia russa e cinese è nettamente forte che in passato. Ecco, ma in 24 ore hanno deciso il raddoppio più che delle pesi militari e questo ha trascinato, ha gestito anche un elemento positivo per noi del governo italiano e di altri governi, di portare finalmente la soglia dei finanziamenti per la difesa almeno al 2%, considerando che siamo in una fase di grossa insufficienza e distanziamenti. Pensiamo ad esempio nel campo cyber, che è la quinta dimensione della sicurezza, sono stati fatti sforzi con l'agenzia, c'è un direttore della nostra agenzia di sicurezza e cibernetica di grandi capacità, di grande valore, ma le risorse di cui disponiamo, non illudiamoci, sono estremamente calenti rispetto alle sfide che abbiamo davanti e anche agli impieghi in questo settore, anche l'impegno in questo settore, anche come concetti strategici che vengono fatti da Londra, da Berlino, da Parigi e da Washington, per contrastare la minaccia. Abbiamo visto quello che è successo, le ferrovie dello Stato nelle ultime ore, ma l'abbiamo visto anche il Ministero. Abbiamo avuto perfino la follia di continuare a comprare per amministrazioni pubbliche italiane da anni gli antivirus Kaspersky, o di mettere appunto le telecamere Equivision nelle città italiane, o di dare a fornitori cinesi dei segmenti nell'ingresso del 5G, con la scusa che sono più economici di altri. Va bene, più economici, ma è come dare le chiavi di casa a qualcuno, a qualche organizzazione che conosciamo, per poi dire, vabbè, quello mi protegge la casa a suo costo e vorrei vedere quando poi ci porta via tutto, è un altro ragionamento. Ecco, dicevo la doccia fredda del capire che quello che in certi mondi, in certe autazie, diciamo pure in certi paesi governati dal grande leader, o da un leader, chiamiamolo come si voglia, Putin in Russia, Xi Jinping in Cina, questi sono signori che scrivono quello che fanno, ma lo scrivono molti anni prima anche, e poi radicano nel loro test e scelgono i loro collaboratori che sono in grado, che hanno la voglia o l'interesse o entrambe le cose, per attuare il po' nelle cose più pazzesche. E parliamo di Putin, Putin le cose che sta facendo, le ha scritte dal 2008, per poi continuare ad aumentare questa sua pressione. la sua ossessione è, dice, lui sostiene che la sua ossessione è minacciata dalla Nato, cioè la Nato ha un confine di mille chilometri, e i paesi Nato, tra l'altro i paesi nuovi entrati, che non sono certo delle potenze militari come non siamo nessuno, nessuno europeo nell'Alleanza Atlantica, se non forse due paesi che sono potenze nucleari, che sono la Francia e l'Inghilterra. Ma su questi mille chilometri di confine, su un totale, credo, la Federazione Bussa, un paese gigantesco, non so quanti chilometri ha di confine, ma certo meno di 10-15 mila, ecco, questi mille chilometri di confine, 800 chilometri, sono cerchiamento, si sente accerchiato dalla Nato, e quindi deve porre l'ultimato, perché di questo si è trattato, a inizio febbraio, quando hanno cominciato a esserci delle indicazioni chiarissime che ci sarebbe stata un'offensiva di questo enorme schieramento militare, lui dice ci sono delle condizioni non neabili per me. E manda un documento scritto all'Alleanza Atlantica e agli Stati Uniti che rispondono, proponendo poi in risposta alcune cose estremamente intelligenti che valevano per entrambi, sulle quali entrambi gli schieramenti avrebbero dovuto avere e continuano ad avere lo stesso interesse. Essendo queste proposte occidentali alla Russia di ritornare a una diminuzione degli armamenti convenzionali sui due fronti, di escludere forze nucleari intermedie dal teatro europeo, cosa che i russi da almeno dieci anni hanno ricominciato a fare con i missili Kander a Kaliningrad, nel distretto di Kaliningrad, di stabilire delle misure di fiducia con controllo e verifiche sui due lati, a ispezioni che provvise, per vedere che non si preparano, di notificare esercitazioni militari, di vietare lo spiegamento di forze che sia al di sopra di certe soglie. Tutte queste cose esistevano fino a quegli anni, fino al 2007-2008. E la Nato e gli occidentali, gli Stati Uniti, le ripropongono a Putin. No, Putin non vuole neanche sentire parlare di queste cose, chiaramente non le vuole sentire parlare perché a lui interesse, l'operazione militare che sta portando avanti, gli interessava a inizio febbraio e continua a interessare. E cosa chiede Putin? Ma forse qui c'è qualcosa che ogni tanto sfugge, anche ai commentatori, ed è anche questo, si collega al ragionamento che ho cercato di iniziare, che la guerra in Ucraina è la guerra all'Europa. Non soltanto perché è contro il paese europeo, sovrano, sovrano, un grande paese, una grande cultura, un grande popolo, lo vediamo, un grandissimo popolo, un grandissimo popolo, che tiene la sua identità nazionale, che non è sceso in piazza ad acclamare carri armati russi perché stava per essere liberato ai nazisti. Tutto il contrario, lì di nazisti non c'è proprio nessuno perché il presidente Zelensky, un ebreo figlio di vittime dell'Olocausto, e suo nonno ha combattuto nelle forze sovietiche, contro i nazisti, quindi tutte queste storie profondamente offensive e tristi da parte della propaganda del Cremlino. Ma il punto è che l'Ucraina è un punto di passaggio per ottenere la demitiarizzazione e la neutralità, e neutralità nei confronti della Russia, richiesta dalla Russia, vuol dire sottomissione politica, sottomissione politica dei nove paesi che sono entrati nella Nato dopo il 97. Ma vogliamo considerarla seriamente, questa richiesta ultimativa di Putin per non invadere l'Ucraina fatta inizio a febbraio? Putin dice tutti i paesi entrati nell'Alleanza Atlantica dopo il 97 non devono più ospitare nessuna infrastruttura militare, nessuna garanzia da parte dell'Alleanza Atlantica. Se qualcuno va su Wikipedia da qualsiasi altra parte e vede quali sono i paesi entrati dopo il 97, se ricordo bene, sono i Tre Baltici, L'Oponia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania e Ungheria. Quindi, e perché lui fa questa domanda? E guardate bene, lui fa questa domanda di far fuori dal sistema di sicurezza dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica questi nove paesi. Ma se per caso siamo così arroganti da dirgli di no, come abbiamo fatto, sapete cosa fa? Spopola l'Ucraina. E dove vanno l'Ucraina, a parte quelli che lui si porta con i corridoi umanitari, quelle poche migliaia che porta poi in Bielorussia, stranamente, sono delle cose molto strane, molto inquietanti che stanno accadendo. Centinaia di bambini presi dai russi e messi, portati, finiranno magari ospitati in qualche casa con gli ente russa, migliaia di... Ma la grande massa di rifugiati, ci sono 10 milioni di sfollati oggi in Ucraina. Probabilmente diventeranno molti di più. È la stessa tecnica che ha fatto Assad e Putin ad Aleppo, nel Ghouta, a Idlib e in altre zone della Siria. Esattamente lo stesso manuale. Questi 10 milioni di sfollati hanno già prodotto circa 4 milioni di rifugiati che hanno attraversato la frontiera polacca, la frontiera ungherese, slovacca. Cosa succede se da 4, ma anche soltanto con 4, ma probabilmente anche 10, e c'era un'analisi interessantissima di una delle persone più geniali, degli analisti più geniali che esistono, a mio avviso, Thomas Friedman, grande conosciuto del Medio Oriente, ma non solo, qualche fa, Thomas Friedman ha scritto un articolo in cui faceva le quattro diverse ipotesi nelle azioni militari portate avanti da Putin e come poteva finire la storia. E ha detto la quarta ipotesi, che potrebbe essere la prima, è che se non fa niente se l'azione militare è impantanata, e sicuramente lo è, perché c'è la notizia, oggi bisogna vedere come va a finire, per carità, una persona fragilissima, ma c'è la notizia di una controffensiva delle forze ucraine che hanno accerchiato un contingente di 10.000 russi, 10.000 uomini, soldati, così, e l'hanno respinto a nord di Kiev, di 10-15 km, quindi lì bisogna vedere cosa succede. Ma, se anche dura per me avvenire questa situazione militare così drammatica, la politica di annientamento delle popolazioni civili, perché ormai, da almeno due settimane, è iniziato un martellamento massiccio, aviazione, ma l'aviazione ha delle difficoltà perché stanno arrivando anche delle contraeree ad alta quota a sostegno delle forze ucraine, i bombardamenti da bici che arrivano fino a 20-30 km di distanza su mirati a pedali, 52 ospedali sono già stati bombardati negli ultimi 10-15 giorni, su scuole, addirittura luoghi dove c'erano fuori bambini non bombardati e cose del genere. Con la scusa oscena, con la disinformazione oscena che sono gli ucraini che li bombardano o che dici stanno tutti i guerrieri ucraini, immaginatevi, padri di famiglia che imbracciano le armi che vanno a scondersi fra i bambini. Solo Putin è capace di dirlo e sicuro anche di farlo. ma il fondamentale è che la guerra contro la popolazione di Medioe è fatta per creare profughi nei paesi di confine e non solo di confine perché arriveranno anche. E qual è il ragionamento ora che fa Thomas Friedman, non lo faccio io ma mi sembra molto verosimile, che l'ipotesi dello spopolamento delle città della fuga disperata di queste persone dal loro paese per riversarsi in Europa, nei paesi europei è un elemento di forte destabilizzazione, magari non per paesi come l'Italia come la Germania come grandi paesi che hanno delle risorse, ma vi immaginate mezzo milione di persone nella Repubblica Slovacca o anche nella Repubblica Ceca o anche in paesi baltici, in Polonia, crea degli elementi di tensione sociale, non parliamo dell'Ungheria, degli elementi di tensione sociale interna per cui questa unità di consensi che si è verificata ed è fatto un fenomeno straordinario, la coesione politica e la volontà di reazione su piano economico ma anche indirettamente militare fornendo degli aiuti militari che si è creata fra i paesi dell'Unione Europea e i paesi della Nato, tutto questo può essere destabilizzato con un flusso così masticcio di milioni e forse anche 10 o 15 o 20 milioni di persone disperate ucraine che stanno facendo. Chiudo dicendo che sono dei passi la resistenza del popolo ucraino, l'aiuto al popolo ucraino, l'attivazione dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite che legittima in assoluto il punto di legittima difesa di una vittima che viene aggredita da un paese aggressore, il principio che gli aggrediti, che la vittima deve essere aiutata dalla comunità internazionale a difendersi. Quindi questa storia delle armi, io sono pacifista per carità, voglio il dialogo, vado a parlare con il capo del carro armato che sta sparando sulla mia casa e forse lo convinco a sparare un po' meno bombe, sono veramente delle cose che lascio a voi di definire. Ma il punto della giustizia internazionale che si è già attivata, la Corte Internazionale di Giustizia ha deciso 13 giudici contro 2 che l'aggressione è assolutamente ingiustificata, che non esiste nessun motivo per le forze armate di stare in Ucraina che devono ritirarsi immediatamente, lo ha deciso il 6 di questo mese, la Corte Internazionale di Giustizia. La Corte Penale Internazionale che è l'altro organismo ha già avviato un processo il procuratore generale di quella Corte il principale magistrato che raccoglie le prove è andato a Kiev e sta già raccogliendo montagne e testimonianze e il principio della giurisdizione universale che l'ordinamento italiano ricce così come quello tedesco e spagnolo consente ai tribunali dei paesi che ho menzionato ma anche di altri di portare in giudizio anche in contumaccia Putin e le persone che sono responsabili dei misfatti che si stanno compiendo voi direte ma che cosa gli interessa a questi? No, gli interessa perché la giustizia internazionale può arrivare tardi ma un fatto politico di straordinaria importanza anche per far capire bene a quelli che devono decidere come comportarsi che siamo noi che è il popolo italiano e che sono tutti popoli dell'alleanza atlantica come devono capire volere e eliminare questa vergogna sconfinata sulle nostre coscienze è stata l'aggressione di una potenza neoimperiale di un uomo visionario corrottissimo con una sua cerchia di ultra corrotti avete visto gli yacht che hanno da centinaia di milioni presi con i soldi d'acquisto di gas e materie prime che noi diamo a questi signori che loro mettono in yacht è in armi mentre il cittadino russo 150 milioni di russi vivono con un PIL con un prodotto interno lordo che è il 30% di quello italiano che sono il triplo della nostra popolazione quindi magari la giustizia internazionale anche la giustizia nazionale in base al principio di giurisdizione universale può aprire gli occhi anche ad alcuni di quei 360 parlamentari alcuni erano giustificati altri sono probabilmente vittime dei loro pregiudizi e delle loro strane ideologie ma sicuramente diversi di quelli che non sono andati dovrebbero pensare al fatto che da 70 anni a questa parte l'Europa è vittima di un'altra guerra che non si chiama ancora guerra mondiale ma sicuramente è una guerra contro l'Europa grazie grazie ambasciatore dell'interessante reelezione si sono prenotate una serie di persone alcune hanno scritto in chat una serie di domande non so se riusciremo a farle tutte perché il tempo corre velocemente però darei subito la parola ad Antonello Formichella che si era prenotato per una domanda se vuole intervenire sì grazie buonasera intanto ambasciatore grazie per per l'intervento devo dire lineare flessibile e molto molto prezioso faccio una domanda velocissimamente che si collega ad alcuni punti che lei ha trattato sin dall'inizio sino alla fine partendo dalla fine alla pressione che Putin fa tramite i profughi sul sull'Europa l'Europa che è stata citata anche come pianeta di Venere impegnata con alcuni paesi sempre a vendere vendere o comprare comprare fino ad arrivare alla frase che lei ha citato di Almirante che io traduco in forma diciamo gesuitica sintut sunt autnot sint allora la domanda è brevissima quanto diciamo la nostra visione di Europa che appunto alcuni ideologi anche russi traducono come occidente decadente abbia portato al di là di Putin ma un po' tutte le democrature quindi anche Xi Jinping ma anche Erdogan se vogliamo giusto per fare un parallelismo sull'uso dei profughi quanto abbia come dire portato le democrature ad avere una postura diversa nei nostri confronti negli ultimi 10-15 anni forse 20 perché probabilmente come dire una sorta di omissiva colpevole complicità da parte dell'Europa probabilmente c'è stata sempre ricollegandomi con un fil rouge a quello che lei ha detto dall'inizio alla fine grazie la ringrazio molto per questo certo è uno dei temi di fondo grazie per averlo sollevato a mio giudizio ognuno è libero di pensare come vuole purché non favorisca le cose che stanno accadendo in Ucraina perché la libertà di io vedo una libertà di pensiero in un contesto di onestà intellettuale di rispetto alla verità quindi non sono disposto a essere fra quelli che dicono l'Italia non ha ancora chiuso Russia Today e Sputnik che sono organi della propaganda e della disinformazione russa così come non ha ancora chiuso i siti sui quali il governo cinese vi ricordate quando c'era le mascherine cinesi che sappiamo quanto erano pagate a caro prezzo da speculatori italiani e poi fatte venire in Italia come una cosa meravigliosa c'erano le bandiere sulle finestre dei palazzi grazie a Cina grazie a Cina si è scoperto che erano tutte delle finte quello è stato dimostrato che erano fake news diramate dalle ambasciate cinesi e riconsolati cinesi in Europa ma il punto il discorso della in che cosa abbiamo sbagliato allora io guardo la politica estera guardo la politica estera poi magari un cenno anche su su quelli che sono gli assetti interni dei nostri paesi politica estera noi l'abbiamo ho visto ho visto e sono stato testimone di persona in una stagione della mia esistenza professionale di quanto gli affari prevalgano sulla sicurezza nazionale sul rispetto delle nostre forze armate ci sono dei paesi che dicono nessuno deve essere lasciato indietro ho servito diversi anni in Israele sono in contatto con loro gli americani li conosco un pochino e il principio addirittura non lasciano indietro neanche i morti fanno qualsiasi cosa riscattano anche le persone noi se qualcuno resta indietro in alcuni casi non ce ne preoccupiamo non ce ne preoccupiamo più di tanto questo è un concetto di sicurezza e di dignità di quello che sono alcune istituzioni come le forze armate c'è una scarsa c'è una sufficiente considerazione del fatto in Italia ma in genere in Europa anche se non ripeto se non in Francia e nella Gran Bretagna perché è fuori dall'Europa con la Brexit ma è sempre Europa lì l'idea di sicurezza nazionale di identità nazionale di rispetto alle forze armate di grandezza del paese di grandezza del paese è ben diverso dal nostro diciamoci la verità io la vedo così e se qualcuno mi fa riesce a darmi degli elementi per essere più ottimista sono contento il fatto che in Europa questa considerazione se voi vedete anche nei sondaggi di opinione nelle priorità di governo alle elezioni di opinione pubblica un americano o un inglese ragiona mettendo delle priorità completamente diverse alle nostre quando si parla della sicurezza rispetto alla salute alla al welfare state eccetera certo sono cose importantissime anche quelle ma la vita delle persone la sicurezza dei connazionali all'interno delle frontiere e fuori dalle frontiere è una cosa di fondamentale importanza per altri paesi per noi noi diciamo che lo è anche per noi ma non ci comportiamo così l'investimento nella difesa statisticamente si dice che l'1,2 1,3 in realtà è meno e via dicendo adesso anche il dibattito se dare aiuti militari della gente che è massacrata nelle proprie città delle armi per difendersi dei carri armati o dei bombardamenti aerei anche questo lo trovo una manifestazione dello stesso segno quindi quello che lei chiama giustamente che molti chiamano democrature cioè paesi autoritari autoritari dove il leader piano piano ha eroso tutte le libertà e le ha azzerate cioè Putin ammassa gli oppositori politici o li inchiude e lo stesso fa Xi Jinping ma che scherziamo Xi Jinping sta distruggendo una popolazione di 25 milioni di persone gli sta i tibetani dagli anni 50 l'identità tibetana è il partito comunista cinese la vuol far sparire io non vedo nulla di encomiabile né neanche lontanamente accettabile in quei sistemi di governo in quei paesi sono spregevoli come si comportano con il loro popolo e di conseguenza comportandosi così con il loro popolo che problema hanno andare a buttare le armi chimiche sui siriani lo fanno dovunque adesso addirittura si minacciano le armi chimiche contro gli ucraini o le armi o le armi nucleari dove siamo stati carenti nell'appeasement l'appeasement per chi così vede nella figura di Mussolini un uomo che per o meno un lungo periodo della sua storia fino alle leggi razziali che sono state una cosa vergognosa e incomprensibile di come si sia codato da servo ai nazisti per mettere in Italia le leggi razziali ma in alcune fasi di quei vent'anni ci sono stati degli elementi pur con la repressione della libertà con il credito Matteotti comunque lo si giudica si è andato ma insomma ci sono stati degli elementi di crescita nel popolo italiano ecco il il problema il problema dell'uomo autoritario che ragiona sempre più da solo è stato ho citato Mussolini perché Mussolini è stato un un protagonista degli accordi di Monaco ecco ma protagonista in positivo per il fascismo e probabilmente anche per il nazismo ma è stato un protagonista di una grande sconfitta di quelli che invece dovevano tenere il campo e non cedere all'appeasement non accettare un accordo che comunque sarebbe sfociato nella guerra mondiale non dico che la guerra mondiale sarebbe scoppiata prima ma neanche un appeasement ci doveva essere di quel tipo cioè un alzare bandiera bianca senza trovare nessuna forma di contrasto di una tragedia in mane che era il nazismo e il fascismo con la seconda guerra mondiale io vedo senza esagerare sulle rievocazioni storiche che negli ultimi 14 anni l'Europa e l'Occidente hanno giocato l'appeasement e questo è il maggior la maggior responsabilità in negativo che vedo sul piano della politica estera nei confronti con quelle che lei ha chiamato le democrature la ringrazio anche e soprattutto per il richiamo che ha fatto sulle forze armate grazie bene leggo due domande adesso che hanno fatto in chat che potrebbero essere un po' accorpare una da parte di Mario Di Orio che si preoccupa nella Germania cioè fa la domanda c'è una Germania che si riarma in prospettiva può essere un problema per l'Europa e la successiva invece che parla proprio dell'esercito europeo di una possibilità di avere un esercito europeo in un qualche modo potrebbero essere abbinate io vedo la situazione politica in Germania non mi sembra non mi sembra tale da creare preoccupazione mi sembra mi sembra almeno due generazioni dopo il nazismo l'esperienza di quel paese che ancora non dove ancora non c'è c'è una vergogna personale a dire molto io credo molto di più giustamente di più perché i crimini del nazismo sono stati una cosa mostruosa non c'è di meglio di peggio quando si fa delle leggi razziali e si contribuisce all'eliminazione di un popolo non si può dire meglio uno perché le vittime causate in Italia sono state infinitamente meno di quelle causate dalla politica nazista è orrendo in entrambi i casi ma mi sembra che non si può dire che ci siano nella Germania attuale non avrei veramente nessunissima esitazione per come per come li conosco a vedere se hanno finalmente maturato una capacità di garantire la sicurezza loro e di contribuire in modo molto molto più serio alla sicurezza dell'Alleanza Atlantica durante la guerra fredda l'esercito tedesco era un fiore all'occhiello di tutta l'Alleanza Atlantica per tutta la guerra fredda non siamo mai posti problemi di questo tipo mi sembra lo stesso vale per il Giappone se la svolta il Giappone per un tornare ad avere un ruolo serio anche fino adesso non aveva neanche partecipato a operazioni di pace praticamente per operazioni di pace dove c'è uso della forza sempre molto limitato tutta la sua attività militare legittima che è garantita la consiglia di sicurezza quindi se adesso invece è obbligato per difendere il suo popolo in questa direzione ben ben ne abbiamo un enorme bisogno è dell'esercito europeo sì nella relazione fatta dal Presidente Draghi al Parlamento è chiaro impegno di risorse impegno tecnologico di avanzamento nella capacità nelle capacità anche tecnologiche siamo ancora però ben nottani non immaginiamo che 5.000 uomini sono cosa sono qualcuno di voi conosce le forze armate forse meglio di me che ho fatto soltanto la viere nella mia vita ma il credo che 5.000 uomini sono una cosa anche se sono forze speciali di pronto intervento eccetera sono veramente un punto di partenza adesso noi abbiamo l'Alleanza Atlantica l'Alleanza Atlantica funziona è una grandissima realtà è la prima alleanza nella storia che ha vinto senza combattere deve continuare a vincere senza combattere e il principio si chiama deterrezza e gli europei nell'Alleanza Atlantica devono migliorare la loro capacità di influire sulle decisioni politiche dell'Alleanza primo e secondo di essere credibili su piano militare ne leggo un'altra di Maria Giovanna Irene che ci chiede è possibile è realistico pensare che Putin possa essere sollevato e eliminato dall'establishment russo tutto è possibile ma non credo che sia probabile ha una guardia pretoriana di centomila uomini anche quelli la regione di centomila in centomila pare che le sue guardie imperiali non sono uomini da parata pare che Soigu viene fatto sparire metodicamente chiunque sia incapace di mostri credo che sia credo che sia in vista o che stia già in corso un'epurazione nei servizi nell'FSB nella loro intelligence un loro militare uno dei principali collaboratori di Putin due giorni fa incontrando degli addetti militari americani credo si sia messo quasi a piangere perché ha detto io sono ucraino sono stato a scuola nel Diepr e non posso più di questa cosa la cosa poi è venuta fuori pubblicamente non lo so ci sono dei fenomeni che però vengono repressi con la durezza inaudita dubito che sia vicino un'eliminazione di Putin sono arrivate veramente altre domande ma andiamo a conclusione è passato già un'ora non so ambasciatore se possiamo fare ancora qualche altra domanda o ci andiamo a chiusura vorrei abusare della pazienza degli amici decida decida lei quando chiudere l'ultima domanda potrebbe essere forse interessante quanto è realistico possibile l'attivazione dell'articolo 51 se nel Consiglio di Sicurezza siedono proprio Russia e Cina ci chiedono l'articolo 51 è attivo è un articolo che funziona il principio è la base la base giuridica è uno dei pilastri del Nazio Unite così come un pilastro dell'ordine pubblico dovrebbe essere lo sappiamo che è in tanti paesi ma non così bene nel nostro per via di un orientamento alla magistratura che su questo lasciamo perdere il diritto alla legittima difesa che nel diritto internazionale è l'articolo 51 è un principio fra l'altro preso dalla carta sulla base anche di principi consuetudinari che sono molto più antichi della carta delle Nazioni Unite sono dei principi che riguardano le relazioni fra stati ma non so anche fra uomini è un principio di fondamentale buonsenso connaturato al senso della vita uno si difende di fronte a un'aggressione il principio deve essere una difesa proporzionata l'articolo 51 ma attenzione che si parla di attivazione del consiglio di sicurezza ma si parla di attivazione con ogni possibile sollecitudine del consiglio di sicurezza e gli ucraini l'hanno l'hanno fatto non soltanto gli ucraini ma anche altri stati ma viene ucciso nell'uovo perché perché i due membri permanenti fanno bene i loro interessi come anche gli altri tra i membri permanenti occidentali per carità ma in questo caso è inimmaginabile che la Russia dica va bene facciamo lascio passare una risoluzione nella quale si crea una coalition of the willing tipo quella per l'Afghanistan o per altre operazioni militari la prima guerra del golfo eccetera sulla quale è il consiglio di sicurezza che guida l'intero processo politico chiede mensilmente delle relazioni su come vengono gestite le operazioni eccetera l'articolo 51 è rispettato funziona ed è rispettato il consiglio di sicurezza non può pronunciarsi per il motivo che ha detto grazie mille ambasciatore sia della lezione che della pazienza per le risposte che ci ha dato è stato molto illuminante grazie a tutti i partecipanti e ci vediamo alla prossima lezione sempre con la scuola di formazione di fare futuro buonasera a tutti grazie buonasera 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 a tutti grazie a tutti grazie buonasera grazie ambasciatore ciao buonasera buonasera alla prossima grazie grazie buonasera buonasera grazie a tutti